Vediamo chi siamo, perché oggi vediamo chi recuperiamo, perché poi c'era qualcuno che non stava ancora bene. Cioè abbiamo due giorni, partiamo stamattina, poi abbiamo fatto un allenamento, vediamo domani chi recupero e secondo chi ci sarà. Chi è in dubbio? Ma Buddha sta riprendendo, però penso che ci sia, però un affaticamento ad aduttori, subigna, un problema, anche lui da affaticamento al ginocchio, vediamo come. Murosini e Caracciolo, che chi crede? Caracciolo, Andrea, viene con noi, vediamo, anche lui c'è due giorni, vediamo se riusciamo a portarlo nel terreno del panchino. Murosini? Murosini sicuramente non abbiamo collegato, ha fatto due allenamenti con la squadra, quindi porterà con noi. Io cerco di mettere in piedi tutti i migliori che ho a disposizione, quindi sono attento a quello, non è che fa fuori qualcuno, è proprio dettato dalla condizione sia tecnica che fisica. Chi sta meglio cerca di dargli la possibilità, o chi è anche più libero mentalmente, di poter si iscrive. E' un'altra squadra, una buona squadra, si, si, sta facendo in crescita, partita molto zoppicante, adesso ho trovato un equilibrio e soprattutto sono venuti fuori quei valori di squadra che ha, perché molti cambi, molti alternative, ha trovato un assetto giusto e sta facendo un buon campionato. Quindi c'è un fan 4-4-2 con Melchiorri che è uno delle prime punte che ci sta mettendo più in mostra in questa categoria, con dietro Sansovini che è un giocatore di esperienza, di qualità, di furbizia, uomo d'aria, ha due esterni che potrebbe essere Politano, Bianas non so se diventa da Nazionale, se ci arriverà, se non c'è anche Caprare. In mezzo al campo c'è, non c'è ai Brukman, sono due ottimi centrocampini, è una squadra che ha trovato una sua logica, però io sono convinto che se si continua a crescere, se non si smette di crescere, se cerchi di fare sempre al massimo quello che si fa, può succedere, possiamo farlo vedere. Devo vedere chi avrò, perché secondo chi avrò cercherò di adattarmi, però ecco come assetto, come tipologia, penso che potrebbe essere una situazione che ci può far rendere meglio.